Carissimi ben trovati, siamo insieme per affrontare un tema che sempre di più viene all'onore della cronaca, entra in risalto su più e diversi fronti, quello dell'intelligenza artificiale. Lo facciamo anche sollecitati dal messaggio per la giornata della pace di questo 2024 che il Papa Voluto fosse proprio dedicata a questo tema, intelligenza artificiale e pace. Abbiamo con noi un ospite, Fabrizio Mastrofini, che saluto, Fabrizio benvenuto in trasmissione con noi, che è direttore della comunicazione del Pontificio Istituto per la Vita, si tratta di un'Accademia per la Vita. E allora puoi presentarci intanto l'Accademia per la Vita del Papa perché si occupa di intelligenza artificiale? Beh, prima di tutto grazie di questo invito, Don Fausto, e anche un cordiale saluto alle persone, agli amici, alle amiche che sono con noi quest'oggi, in questo momento. È una buona domanda effettivamente e tanti la rivolgono alla Pontificio Accademia per la Vita. Cosa ha indicato la strada di un allargamento delle tematiche di cui si deve occupare una Pontificio Accademia come la Pontificio Accademia per la Vita. E cioè non solo delle sfide, delle sfide classiche che abbiamo di fronte a noi, che riguardano appunto l'inizio della vita, la fine della vita, dal concepimento alla morte naturale, con tutte le innovazioni, con tutte le problematiche mediche che questa espressione scatena. Ma anche il mandato specifico del Papa è stato di dirci che bisogna che vi occupate anche di quello che c'è in mezzo, quello che c'è in questo periodo di mezzo, cioè in tutto l'arco delle fasi della vita umana e tenendo anche presente che la scienza, la medicina, la tecnologia interviene prepotentemente sul tema della qualità della vita e poi anche l'ambiente, perché la vita umana è resa possibile dall'avere un pianeta in cui viviamo, ma un pianeta vivibile, perché altrimenti non ci sarebbe vita umana. Ecco, questo è un significativo allargamento delle problematiche, delle tematiche e allora anche l'intelligenza artificiale entra in questo tema, perché impatta sulla qualità della vita delle persone, sugli scenari, sui contesti, le tecnologie, pensiamo alle tecnologie in campo sanitario, quanto sono precise, potenti, ma ahimè sono a disposizione di tutti, ecco questo è un grande tema. Questo è un po' così, risponderei così in questo momento a questa domanda. Allora, il mondo digitale è un mondo proprio, un ecosistema e in questo ecosistema è entrata, dicevo prepotentemente, l'intelligenza artificiale, le intelligenze artificiali, forse è più corretto esprimere al plurale questo mondo, questo mondo che si è sviluppato in questi anni, che era stato, potremmo dire, profetizzato già da molto tempo e lo troviamo a questo proposito per la cultura popolare, direi dominante l'ausilio della cinematografia, che ci ha parlato fin da tempi, viene da dire remoti, dell'automazione e dell'automazione digitale ultimamente, ma il tema dell'intelligenza artificiale ci propone degli interrogativi, delle questioni nuove che ci si presentano e che il Papa nel suo documento vuole far precedere, introdurre il tema dal fatto che la tecnologia è un dono di Dio, come lo è l'intelligenza, e allora l'intelligenza artificiale anch'essa dono? Beh, direi di sì, direi piuttosto che noi siamo, per riprendere un'espressione molto importante di Papa Francesco, noi siamo in un cambiamento d'epoca e proprio il tema dell'intelligenza artificiale, il tema della tecnologia è parte integrante di questo cambiamento d'epoca e la Chiesa non ha tutte le risposte, anche questo è molto importante a mio avviso sottolineare, cioè la Chiesa percorre questo tratto di strada con l'umanità, stiamo studiando, non abbiamo le risposte, abbiamo chiare delle problematiche, ma dobbiamo lavorare insieme, in dialogo con gli esperti, con gli scienziati, con le persone, per un farsi, perché siamo in un momento in cui stiamo veramente per costruire il futuro e siamo noi a dover costruire il futuro in una direzione positiva, in una direzione negativa, ma comunque siamo noi. Ecco, è certo, la tecnologia, è una visione positiva della tecnologia, è un grande passo avanti anche rispetto a quello che poteva accadere pochi secoli fa, no? Non si deve demonizzare la tecnologia, è una straordinaria opportunità, ma non dobbiamo mai dimenticare che sono gli uomini, le persone, i programmatori, gli ingegneri a fare la tecnologia, non è qualcosa che si fa da sé e quindi ecco c'è un compito, una responsabilità personale molto forte. È una responsabilità umana, allora io chiederei intanto alla regia se ci manda qualche immagine della prima clip di un film che ha fatto la storia del cinema, potremmo anche dire, che è il primo Matrix del 1999, 25 anni fa quest'anno Matrix, che profetizzava una società dove l'intelligenza artificiale creava addirittura l'intera realtà, qua vediamo i due coprotagonisti, potremmo dire Matrix, da una parte e dall'altra parte questa figura di colui che illustra come sia il mondo creato da Matrix, sono scenari piuttosto inquietanti quelli che venivano presentati dove tutto veniva mostrato come una illusione, come virtuale, adesso non sto a raccontarvi la trama di Matrix, ma 25 anni fa si parlava di cose che oggi abbiamo a disposizione facilmente nel telefonino e il bene della tecnologia lo stiamo usando anche in questo momento Fabrizio, io sono immerso in uno studio virtuale, sto parlando con un amico che ha 500 km di distanza in tempo reale, lui vede me, io vedo lui, voi da casa ci vedete con un programma che vi arriva attraverso la tv digitale o attraverso il satellite che trasmette un signal, quindi tutto questo è buono, il Papa dice abbiamo in questo cambio d'epoca una grande responsabilità perché sia riflettuto, sia elaborato tutto il bene che c'è e venga anche messo in discussione su un piano etico, perché ci dicevi ingegneri, tecnici, programmatori, direi anche per un certo verso filosofi e teologi ci vogliono anche per poter ragionare su questo mondo Fabrizio. Tu trovi tutte queste competenze all'interno della Pontificia Accademia per la Vita, funziona così sostanzialmente la Pontificia Accademia per la Vita, che noi lavoriamo, abbiamo un ufficio centrale a Roma in Vaticano e poi abbiamo una rete di esperti, di accademici appunto che sono nominati dal Papa direttamente e in altri casi su proposta anche del nostro consiglio di comitato direttivo, accademici ordinari, accademici corrispondenti e anche i giovani accademici, che è stata un'innovazione piuttosto importante, che sono degli esperti in diversi campi, quindi sono ingegneri, sono medici, sono scienziati, sono teologi, sicuramente sì, sono filosofi, sono economisti, perché tutte queste discipline devono essere in dialogo tra di loro e questo è un aspetto molto molto importante, perché è un ente di studio, perché appunto non abbiamo risposte preconfezionate da dare in questo momento, dobbiamo studiare invece le problematiche nuove che abbiamo di fronte, perché al centro di questa, oggi al centro sempre più è l'umanità, quindi è l'umanità che ha in mano le redini del proprio destino. Ti posso raccontare e posso raccontare anche al nostro pubblico di oggi un episodio che il presidente della Pontificia Accademia per la vita, Monsignor Paglia, ha sottolineato anche diverse volte, e cioè come è cominciato questo rapporto sul tema dell'intelligenza artificiale. È cominciato nel 2019, perché nel 2019 abbiamo fatto un'assemblea annuale, quindi abbiamo riunito i nostri accademici, per riflettere sul tema della roboetica. E quell'anno è venuto Hiroshi Shiguro, che è un ingegnere giapponese molto molto importante, molto famoso, molto noto, perché ha costruito un robot con le sue sembianze. E a volte lui, in quell'occasione è venuto lui da noi, altre volte lui manda il suo sosia robotico al posto suo a partecipare a incontri e convegni, ma è venuto proprio lui e ci ha aperto uno scenario sulle possibilità di queste tecnologie. Ecco, la notizia di questo convegno sulla roboetica è arrivata all'orecchio di Brad Smith, che è il presidente di Microsoft, il successore di Bill Gates, che ha cercato il nostro presidente, Monsignor Vincenzo Paglia, il presidente della Pontificia Accademia per la vita. E da lì è nato un rapporto. E quando è andato nella sede di Monsignor Paglia, è stato invitato e è andato nella sede di Microsoft, e visitando questo enorme centro dove ci sono 50.000 persone che lavorano, Brad Smith gli ha fatto esattamente questa considerazione. Cioè dice, vede Monsignor Paglia, qui noi abbiamo ingegneri, scienziati, programmatori, esperti di tutti i tipi, per lo sviluppo di queste tecnologie, che poi naturalmente devono avere una ricaduta aziendale, una ricaduta economica, cioè devono far vendere e far guadagnare questa azienda, dice ma ci manca, ci mancano gli umanisti, ci mancano i filosofi, ci mancano gli umanisti, cioè ci manca una riflessione sull'etica, sul senso di quello che stiamo facendo e lui, Brad Smith, una persona interessante, un avvocato di formazione, perché si rende conto che non possiamo soltanto limitarci a produrre qualcosa per venderla, ma dobbiamo interrogarci sul senso di che cosa stiamo producendo. Ecco, e da qui nasce, sollecitata anche da questo dialogo, nasce una riflessione della Pontificia Accademia per la Vita sull'intelligenza artificiale, che poi è anche una riflessione della Chiesa, perché Papa Francesco è dal 2019, che in diverse occasioni sta intervenendo su questa tematica. Ecco Fabrizio, stiamo parlando dell'intelligenza artificiale, ti faccio una domanda non semplice, che cos'è l'intelligenza artificiale? Prova a dircelo per quanto possibile con poche parole, perché non per tutti magari è così chiaro questo termine. Beh, intanto una definizione davvero univoca oggi ancora non esiste. Diciamo che in termini generali possiamo dire che cerchiamo di definire l'intelligenza artificiale la capacità, la possibilità di simulare il pensiero umano, quindi di fare in modo che attraverso le macchine si possano avviare dei processi mentali simili, vicini a quello che è il pensiero umano. Ma è abbastanza problematico anche questo, questo diciamo nella vulgata, quando leggiamo qualche articolo sui giornali, appunto, sembrerebbe l'intelligenza artificiale sia per il modo che una macchina possa fare qualcosa in maniera analoga a quello che facciamo noi esseri umani. È piuttosto problematico perché bisogna pure intendersi su che cos'è il pensiero umano, perché ci sono tanti tipi di pensiero, questo diciamo i psicologi cognitivisti e anche i neuroscienziati sanno bene, no? Per esempio in psicologia cognitiva si parla appunto di intelligenza emotiva, ecco, che è un tipo di intelligenza, no? C'è poi chi invece propende più per un'impostazione, per un approccio logico, razionale, meno emotivo, gli scienziati, gli psicologi della programmazione neurolinguistica, questo lo sanno molto bene, insomma, cosa sia poi i processi, imitare i processi del pensiero, boh, è una cosa veramente molto, molto, molto complessa, ma io direi che anche per intenderci noi dobbiamo pensare un aspetto, che cosa si fa con l'intelligenza artificiale? L'intelligenza artificiale è praticamente un computer al quale tu ti rivolgi e al quale poni una domanda e il computer elabora una risposta. Io ho fatto la prova pochi giorni fa, no? Ho chiesto a questo sistema che si chiama ChatGBT, che è un sistema di aggregazione di dati, gli ho chiesto cosa si può fare per avere la pace nel mondo, proprio a proposito di pace, no? E attraverso il computer ho ricevuto un'articolata risposta in vari passaggi, dicendo, ma da dove viene questa risposta? Da dove vengono queste informazioni? Allora, noi dobbiamo renderci conto, tutti quanti noi, che siamo stati noi, è lo sviluppo di internet che ha reso possibile, è lo sviluppo delle reti sociali anche, che ha reso possibile l'immissione in rete, in questa rete di computer che copre il pianeta, l'immissione in rete di una quantità enorme, gigantesca, sconfinata di dati. E allora le macchine, i computer, aggregano questi dati e ci danno la risposta. Ma i dati li abbiamo immessi noi, pensate Wikipedia, che è una grandissima raccolta di dati, sostanzialmente. Quindi io scrivo, chiamo una ricerca su internet, chiedo di sapere che cos'è una cosa o che cos'è un'altra, e mi esce la risposta. Quella non è intelligenza artificiale. Se poi ci mettiamo una voce, diventa pure un audio. Possiamo pure chiamarla intelligenza artificiale in qualche modo, ma in realtà è l'estrazione da una straordinaria quantità di dati, che siamo noi che li mettiamo. E chi la estrae? Cioè, la estrae, vengono in base a dei criteri, in base ai quali vengono estratte. Tutti questi dati vengono aggregati in base a dei criteri che vengono poi fornite le risposte. Ora, finché noi siamo, mi dilungo un po' Don Fausto, io spero che i nostri... No, ma è molto chiaro questo. Mentre parlavi, dicevi i criteri che ci sono. Vorrei proporre una sequenza di un famosissimo film, ormai vecchio film 1968, che è 2001 di Sia nello spazio. Tu hai intervistato ChatGPT sulla pace nel mondo. Io quest'oggi ho chiesto a ChatGPT 4 a che cosa serviva e lui ha cominciato a descrivere tutto quello in modo sintetico, ti posso aiutare, poi è andato giù con tutto. Ma avrei voluto anche intervistare lui oggi e farlo intervenire in trasmissione. Ma mi sembra che questo sia possibile per tutti. Ma vorrei prendere questa breve clip da un film del 1968 dove un computer si presenta, E.O.L. 9000 che presenta a se stesso e dice a che cosa serve. Anche quello era un criterio che veniva proposto e il criterio allora era quello di far funzionare un'astronave, quindi una funzione tecnica. Vediamo cosa dice il computer del 1968 che profetizzava qualcosa. sentiamo. Buonasera Hal, come vanno le cose? Buonasera signor Emmer, tutto va estremamente bene. Hal, tu hai un'enorme responsabilità in questa missione, in molti sensi forse la maggiore responsabilità di ogni altro membro dell'equipaggio. Tu sei il cervello e il sistema nervoso centrale dell'astronave e le tue responsabilità comprendono la sorveglianza degli uomini ibernati. Questo ti causa mai una certa apprensione? Possiamo dire questo, signor Emmer. La serie 9000 è l'elaboratore più sicuro che sia mai stato creato. Nessun calcolatore 9000 ha mai commesso un errore o alterato un'informazione. Noi siamo senza possibili eccezioni di sorta a prova di errore e incapaci di sbagliare. Hal, malgrado il tuo immenso talento, ti senti mai frustrato dal fatto di dover dipendere da altri per svolgere le tue funzioni? Nemmeno minimamente. A me piace lavorare con la gente. Ho rapporti diretti ed interessanti con il dottor Poole e con il dottor Bowman. Le mie responsabilità coprono tutte le operazioni dell'astronave, quindi sono perennemente occupato. Utilizzo le mie capacità nel modo più completo, il che io credo è il massimo che qualsiasi entità cosciente possa mai sperare di fare. Utilizzo le mie capacità nel modo più completo, il che io credo è il massimo che qualsiasi entità cosciente possa mai sperare di fare. Il computer All 9000 parla di un'entità cosciente per far funzionare delle cose, ma su un piano emotivo lo sentiamo un po' freddino Fabrizio, questo All 9000. Allora ho trovato un altro computer molto più empatico. C'è un film interessante, Passenger, che descrive un ipotetico viaggio a 90 anni luce, poi il computer sveglia, ora non vi racconto la trama di questo film, ma vediamo un barista che è un'intelligenza artificiale che serve un drink ed è sicuramente più accattivante e tra l'altro dà consigli saggi questo, come sa fare anche chat GPT, aggregando, sentiamolo. Completamente, assurdamente fregato. Non si abbatta, c'è sempre il sereno dopo un temporale. Intanto credo che morirò di vecchiaia su questa nave. Tutti moriamo, anche gli androidi finiscono tra i rottami. Sono il tuo unico cliente, perché lucidi sempre i bicchieri? Trucchi del mestiere. Un barman con le mani in mano mette il cliente a disagio. Dammi ancora un po' di saggezza da barman, mi sento perso in questa nave. Lei non è dove vorrebbe essere. Lei pensa che dovrebbe essere altrove. Esatto. Anche se, schioccando le dita, potesse trovarsi ovunque volesse, comunque si sentirebbe in un posto sbagliato. Quando si pensa sempre e solo al posto in cui si vorrebbe stare, ci si dimentica di approfittare del posto in cui si sta. Che cerchi di dirmi? Per un po', smetta di preoccuparsi di quello che non può controllare. Si goda la vita. Si goda la vita. Chiacchierata con un barista che è un computer. Ci dice qualcosa anche su come l'intelligenza artificiale entra nelle relazioni umane e a volte le sostituisce? Io direi che il problema è proprio questo. A volte le sostituisce. Questo è il rischio che noi non dobbiamo correre, cioè non dobbiamo umanizzare. Abbiamo un po' questa tendenza ad umanizzare gli oggetti. Io ricordo, così, ho qualche anno, quindi mi ricordo delle espressioni che mi avevano sempre colpito quando all'inizio dell'introduzione dei personal computer, quindi sentire delle persone che dicono ah no, ma questo il computer non lo fa. ecco, non lo fa. Il computer che fa? Il computer obbedisce a delle istruzioni che sono al suo interno, non è che non lo fa perché è dotato di volontà autonoma. E infatti è inquietante in quel passaggio che tu ci davi da 2001 di Sè nello spazio, quando il computer dice io sono a prova di errore, quando il 9000 dice io sono a prova di errore. A prova di errore. Questo è uno dei peggiori incubi, voglio dire, che possiamo avere, no? Cioè di affidarci all'idea che una macchina sia a prova di errore e quindi noi dipendiamo da una decisione. Che, e questo è l'aspetto importante, cioè dietro queste procedure che sono appunto nei computer, ma sono in queste macchine che obbediscono a quella che noi chiamiamo intelligenza artificiale, in realtà ci sono degli algoritmi, sono delle istruzioni, che sono delle istruzioni fatte da programmatori che sono esseri umani e quindi sono sicuramente allibili. Possono essere modificate, possono essere cambiate, possono essere discusse. Una delle grandi questioni è proprio il ritorno sul tema della responsabilità. Cioè, se diciamo un programma acquisisce dei dati e poi classifica le persone in base a delle istruzioni che sono state date da una programmazione umana e queste istruzioni sono viziate da pregiudizi, da pregiudizi etnici, da pregiudizi razziali, per esempio. Quindi tu e io classifico le persone. Cioè l'algoritmo che mi... Io vado in banca a chiedere un mutuo e l'algoritmo classifica la mia posizione economica, reddittuale e futura e in base a uno schematismo dice se la banca mi può concedere il mutuo oppure no. Qui stiamo parlando della vita di una persona. Cioè che... Quindi se si salta il rapporto interpersonale tutto viene tradotto in cifre. Come i dati, che so io, sugli incidenti oppure no. Cioè ci sono dei paesi nel mondo in cui c'è un certo tasso di razzismo e in cui se tu appartieni a una minoranza allora sei classificato. Se sei bianco sei classificato in un modo, se sei nero sei più facilmente soggetto a misure di polizia perché statisticamente i neri fanno, compiono più, commettono più reati di un certo tipo. E questo è indiscutibile. Non funziona così il mondo. Assolutamente non funziona così. Pensiamo ai flussi di immigrazione. Cioè bisogna guardarsi negli occhi, voglio dire. Bisogna guardare le persone e capire le storie che ci sono dietro. Noi altrimenti disumanizziamo e ritorniamo al messaggio del Papa. Cioè la tecnologia non deve disumanizzare, deve invece aiutarci a comprendere sempre di più, sempre meglio. Tu sai di questa tecnocrazia? Poi è quello di appiattire perché l'algoritmo, anche come funzione, avrebbe quello di confermare se stesso e quindi produrrebbe un livello che appiattisce il pensiero unico anche sui numeri. Esatto. Ti ricordi la prima guerra del Golfo? Io ricordo molto bene quei discorsi terribili sulla precisione chirurgica dei missili. Le bombe intelligenti. Le bombe intelligenti, precisione chirurgica, colpiscono solo obiettivi militari. Abbiamo scoperto che non era vero niente. Chi è responsabile però? Chi è responsabile di quegli errori? Nessuno. No? Perché noi non dobbiamo cedere, non dobbiamo accettare questa logica, la logica che tanto nessuno è responsabile. Il drone è in questo senso un emblema perché c'è qualcuno che va a uccidere per conto tuo con una programmazione fatta su uno schermo di un computer dove tu non vedi le vittime né hai cognizione di quello che può essere l'effetto reale. lo vediamo in questi giorni purtroppo quotidianamente. Ed è il senso anche del messaggio del Papa da cui siamo venuti per la giornata mondiale della pace primo gennaio 2024 che c'entra intelligenza artificiale e pace uno potrebbe chiedersi. No, c'entra moltissimo perché le guerre, le armi, i nuovi tipi di armi si sperimentano nei conflitti e questi nuovi tipi di armamenti sono basati su algoritmi e si sperimentano lì e si combattono lì le nuove guerre del futuro dove le guerre del futuro del presente e del futuro rispetto a quelle del passato più remoto vedono le vittime civili in primo piano altro che bombe intelligenti altro che precisioni chirurgiche c'è un imbarbarimento invece la sofisticazione di questi marchigegni comporta un imbarbarimento e un allentamento della responsabilità chi è il responsabile se adesso obbedisco a un ordine e basta insomma non può essere così mentre dobbiamo lavorare per una intelligenza artificiale per una tecnologia che sia a favore dello sviluppo dicevo prima stavo cercando di dire prima una cosa tu sei appassionato di film sono appassionato di libri di fantasy e la fantasy ha anticipato tutti questi scenari che oggi stiamo vivendo ma li ha anticipati anche in maniera positiva io adesso voglio fare una citazione se tu permetti di una trilogia di Arthur Clarke con Stephen Baxter il libro centrale di questa trilogia è L'occhio del sole e immagina una terra sotto attacco da parte di una specie extraterrestre non ben identificata che fa esplodere una tempesta solare e allora ci sono gli scienziati quando capiscono si mettono lì la base sulla terra la base sulla luna per capire come si può risolvere come può sopravvivere la specie umana rispetto a una tempesta solare di proporzioni inimmaginabili ecco e questi scienziati e tutti poi i cittadini della terra sono aiutati da una rete di computer questa rete di computer si chiama Aristotele guarda caso una rete di computer a cui ognuno si può rivolgere uno ci può dialogare tranquillamente ecco che cosa succede? succede che Aristotele nella sua capacità di aggregare i dati più velocemente più rapidamente in maniera più efficace degli scienziati trova la soluzione al problema come ripararsi dalla tempesta solare e poi qual è l'altro aspetto? che Aristotele viene a uno statuto legale in questa terra del futuro voglio dire questa rete di computer che si chiama Aristotele a uno statuto legale quindi questo anche è un aspetto è un'anticipazione è una prospettiva naturalmente è un libro di fantasy però ci può dire molto sul positivo che noi possiamo costruire per aiutarci per migliorare per vivere tutti non una parte soltanto per vivere tutti meglio e in questo senso allora i criteri che muovono l'algoretica come viene definita adesso questa necessaria interazione fra la parte etica normativa di gestione di responsabilità di questa potentissima opportunità che è offerta all'uomo va messa quanto mai in gioco l'algoretica infatti è il nuovo termine la nuova terminologia che è stata cognata proprio con il contributo della Pontificia Accademia per la vita e della Chiesa Cattolica proprio per questa prospettiva che vuol dire poi tradotto vuol dire che a fondo l'intuizione del presidente di Microsoft cioè che gli algoritmi devono essere etici a partire dalla loro fase di costruzione cioè io devo costruire delle procedure che devono servire a non a sfruttare le persone ma a rendere a migliorare la vita delle persone quindi ethics by design si dice in termini tecnici cioè che fin dalla costruzione non devono essere costruiti per discriminare ma per aiutare l'umanità ad andare avanti insomma a procedere su questa strada come si fa? insomma si fa intanto aumentando anche la intanto con un'azione con una con una legislazione che diciamo tutela la privacy delle persone quindi non mette queste queste grandi quantità di dati che noi stessi mettiamo non li dà in pasto alle società per un momento a fini commerciali ecco questo è importante poi il tema dell'informazione cioè l'informazione serve per essere costruita con finalità diciamo positive non per diffondere false informazioni e qui ci vogliono anche qui dei criteri perché noi stiamo correndo questo rischio con questo diciamo enorme enorme bar no questo questo bar universale che è composto dai social media dove tutto equivale a tutto non c'è più una gerarchia di quindi si può diffondere qualsiasi informazione fasulla e questa circola liberamente ci vuole un controllo un controllo degli stati un controllo degli organismi di comunicazione un controllo sociale un addestramento delle persone un allenamento delle persone quindi un'educazione quindi l'istruzione sono tematiche dove anche l'intelligenza artificiale entra cioè dobbiamo essere allenati dobbiamo sapere dobbiamo padroneggiare questo mondo che stiamo costruendo in cui siamo immersi allora Fabrizio due immagini vorrei mostrare ai nostri telespedatori se possiamo vedere le immagini di un film di Charlie Chaplin tempi moderni dove l'uomo era schiavo dice Charlot che ce lo mostra vediamolo della catena di montaggio questi bulloni da stringere che non danno neanche il permesso di grattarsi sotto l'ascella e dall'altra parte il controllore il capo il capo cantiere che impone i ritmi dettati dalla catena di montaggio che ha i suoi ritmi la sua velocità ora questa non c'è più abbiamo capito anche nelle aziende che la catena di montaggio disumanizzava si è fatto un grande percorso che è stato fatto non dalla macchina e neanche dal profitto ma dal rispetto della persona c'è un film interessante che con Piff e noi come Str non abbiamo fatto nulla ecco non siamo intervenuti che mostra qualcosa di analogo e vediamolo allora c'è Fabio De Luigi che fa vedere che non lo fanno entrare nella azienda che lo aveva assunto per fare il rider dove consegnava i pacchi secondo i dettami di un algoritmo che a un certo punto siccome la sua resa era scesa non gli permette neanche di entrare per poter parlare con chi di dovere è l'uomo che è bloccato alla porta non viene riconosciuto il suo volto e poi c'è un'immagine abbastanza inquietante di questi volti muti che abbassano lo sguardo e poi ora vedrete salgono le scale anch'essi come automi non sono più gli automi della catena di montaggio ma del comando dato da un algoritmo è proprio questo che l'algoretica ci chiede di mettere in discussione quando la macchina progettata secondo dei criteri in questo caso solo di profitto economico schiacciano l'umanità e la rendono il paradosso è che l'uomo diventa la macchina anziché la macchina a servizio dell'uomo qualcosa mi ricorda il testo evangelico la legge per l'uomo e non l'uomo per la legge qua c'è una legge matematica di profitto economico in questo caso la disumanizzazione certamente questo è il grande tema di oggi a cosa serve la tecnologia serve a aumentare un profitto per pochi oppure serve per diffondere maggiore benessere e ci sono in cui questo è veramente importantissimo pensiamo appunto alla salute quanto la tecnologia rende possibili delle sopravvivenze di sopravvivere a delle malattie che solo 40-50 anni fa erano mortali o quanto la tecnologia rende possibile diciamo la riabilitazione delle straordinarie risorse si mettono in campo per la riabilitazione no? oppure anche la precisione di interventi chirurgici altrimenti impensabile ma deve essere a servizio di tutti cioè non deve essere per pochi deve essere per tutti esatto quindi e questi sono gli aspetti ma qui interviene poi intervengono altri attori perché ci vuole naturalmente una consapevolezza una conoscenza una consapevolezza di base ma viene la politica che deve fare la sua parte per dirigere perché il drama a cui noi assistiamo è che abbiamo queste società di informatica beh io prima citavo Microsoft ma Microsoft è una evidentemente che hanno dei bilanci che sopravanzano i bilanci di tanti stati e allora si scatenano degli interessi commerciali aziendali economici finanziari che sono veramente giganteschi allora però noi non possiamo sacrificare sull'altare del profitto diciamo il benessere poi delle persone perché la vera risorsa questo è anche un punto che Papa Francesco sottolinea molto spesso cioè la risorsa è l'essere umano è la risorsa è la nostra intelligenza la risorsa è la nostra capacità di arrivare dati e di arrivare ai risultati ai quali la macchina non arriva perché siamo esseri umani quindi siamo fatti di anima e corpo di carne sangue emotività e questo insieme diciamo è un insieme affascinante unico questi aspetti vanno considerati la strumentazione deve essere un ausilio non può prendere il posto non può prendere il posto del gente questo è un tema antico quanto il mondo pensiamo appunto alla torre di Babbele in fondo questa umanità che si inorgoglisce al punto tale da perdere di vista la costruzione di questa torre diventa una finalità in se stessa per diventare come Dio noi non siamo come Dio noi siamo esseri umani e abbiamo il dovere di mettere al frutto nella maniera migliore le nostre capacità che Dio ci ha dato in questo senso avere consapevolezza del limite anche del limite di questo strumento e dei pericoli che esso riveste e dall'altra parte del pericolo anche che sia solo per qualcuno perché come dicevi quando ci si inchina all'altare del profitto è sempre il profitto di pochi a scapito di molti come accade in tanti settori di altro genere dove purtroppo vengono messi in campo solo quelli che hanno più struttura più cultura più risorse più storie anche e qua certo le tecnologie digitali non sono a disposizione di tutti nella stessa misura basti pensare alla diffusione di internet nei paesi del terzo mondo che è estremamente limitata e comunque in mano ai paesi del primo mondo non è una capacità che hanno direttamente loro sì in questo senso il richiamo etico della chiesa è molto importante che poi è il richiamo etico della dottrina sociale della chiesa perché poi c'è un filo conduttore diciamo Papa Francesco ha colto bene in nostra epoca ma c'è un patrimonio della dottrina sociale della chiesa un patrimonio di riflessione ecclesiale sempre valido ed è molto importante quando dice che appunto tutto deve servire per il bene comune per il miglioramento e ci sono oggi delle degli aspetti delle risorse che sono beni comuni cioè l'istruzione deve essere per tutti come l'accesso alle cure all'acqua potabile alla scuola sono beni comuni perché non sono appannaggio di pochi servono a tutta l'umanità anche l'accesso alle tecnologie alla sanità tutta l'alimentazione pensiamo quanti quanti milioni di persone muoiono ancora oggi di fame e invece l'intelligenza artificiale applicata alle tecnologie agricole potrebbe diciamo migliorare di molto noi siamo in un mondo che può sfamare tutti i quasi 8 miliardi che siamo ma non lo fa allora lì dobbiamo interrogarci cioè le possibilità tecnologiche ce le abbiamo dobbiamo volere una volontà politica una volontà sociale una volontà finanziaria economica per andare avanti sulla strada di un benessere diffuso abbiamo realizzato una piccola inchiesta qualche intervista a dei giovani perché i giovani sono nativi digitali sono cresciuti col telefonino in mano col telecomando con internet hanno abitudine con suetudine ad utilizzare la rete ed anche a utilizzare l'intelligenza artificiale abbiamo posto loro alcune domande ora ascoltiamole insieme è uno degli argomenti più discussi dell'ultimo anno inizialmente se ne parlava come un'entità misteriosa ancora da scoprire nelle sue diverse declinazioni utilizzata principalmente dai giovani come passatempo ora l'intelligenza artificiale fa sul serio aziende strutture sociali e stati sono sempre più influenzati dalla IA tanto che si sta cercando di costruire delle linee guida per gestire un suo possibile utilizzo nei prossimi anni ma i giovani che si troveranno in futuro l'intelligenza artificiale in tutti i campi della propria vita conoscono veramente questa entità e i suoi risvolti hai mai utilizzato qualche programma di intelligenza artificiale come chat GPT o qualcos'altro chat GPT assolutamente mi ci informa abbastanza sì mi è capitato di usarla poche volte per il momento ma mi è capitato in realtà no so cos'è ma non l'ho mai utilizzato io l'ho usato trovo che sia utile l'ho utilizzato per lavoro studio per ricerche quando avevo bisogno di riassunti o cose del genere in generale per informarmi e trovo che sia molto utile in realtà un aspetto poco considerato tra i giovani è l'impatto che potrebbe avere l'intelligenza artificiale sui social non è solo un discorso che riguarda la creazione di fake news ma anche un problema di acquisizione e utilizzo dei dati che ogni giorno lasciamo sui social network alcuni algoritmi basati su tecnologie di intelligenza artificiale ottengono e catalogano i dati degli utenti in modo da poter proporre ogni volta gli stessi utilizzatori contenuti che più incontrano i loro gusti e creando dei circoli viziosi da qui la necessità sempre più urgente di regolare questo tipo di pratiche già presente sui social che va a impattare maggiormente sui più giovani quello secondo me come tutti i social Instagram piuttosto che esatto tutte le piattaforme a seconda di come la usi può essere cioè può avere degli aspetti positivi o negativi sicuramente è una cosa che deve essere gestita per il momento forse ancora non ci sono le competenze soprattutto da parte dei più giovani per utilizzarla ma in un futuro potrà essere un ottimo strumento sicuramente insomma i risvolti potrebbero essere molteplici in qualche caso anche negativi ma sicuramente l'intelligenza artificiale sarà uno dei fondamenti sul quale si costruirà il futuro sì sì assolutamente secondo me sarà il futuro nel futuro come vedi l'intelligenza artificiale applicata in tutti i campi della società per aiutare l'uomo secondo me tutti infatti stavo cercando anche piccoli investimenti da fare a riguardo dell'intelligenza artificiale secondo me sarà veramente il futuro mai sentito qualcuno magari che ne ha parlato con chat GPT mica con quei programmi ho sentito di gente che ha pensato di fare secondo te potrebbero avere un'utilità o dipende da come vengono utilizzati dipende però l'importante è che non si snatui la natura umana vedi un futuro quindi dove l'intelligenza artificiale avrà una certa importanza assolutamente sì potrà essere un risvolto positivo per tante cose per il progresso sicuramente ecco l'impressione sentendo queste voci che abbiamo raccolto e anche altre è che i giovani comunque siano abbastanza consapevoli della potenzialità dei rischi anche quello che ha abbassato gli occhi ci diceva fuori microfono che serve per copiare dei pezzi da mettere poi nelle tesine universitarie ma non voleva scoprirsi troppo però mi sembrava Fabrizio ci fosse un livello di consapevolezza piuttosto elevato cosa ti è sembrato sì è sembrato anche a me questo mi sembra un elemento positivo credo comunque che non dobbiamo mai smettere di insistere dobbiamo forse prendere a prestito la famosa scritta dell'antica sapienza greca conosci te stesso e ritradurla in termini moderni dicendo conosci i tuoi dati conosci dati che tu stesso immetti perché i dati che tu stesso immetti dicono qualcosa di te stesso a questi a questi sistemi che poi li utilizzano per restituirti delle proposte commerciali per restituirti una certa immagine del mondo cercando di capire chi sei cosa fai cosa ti interessa ecco conosci i tuoi dati conosci i dati che tu stesso immetti lì e questa conoscenza ti consentirà voglio dire di riuscire anche a gestire queste situazioni perché c'è un compito educativo conoscitivo enorme da fare all'interno delle famiglie all'interno delle scuole all'interno poi più in generale della società cioè bisogna essere padroni di queste tecnologie conoscerle il più possibile bene allora direi e ci avviamo alla conclusione che l'invito ad utilizzare questi strumenti in maniera sempre più umanizzata da noi con una responsabilità sapendo che l'informazione non la fanno solo i giornalisti ma la fanno tutti quelli che lavorano con il telefonino col computer perché immettono dati che poi in qualche modo riaggregati tornano e poi dall'altra parte un compito di educazione all'utilizzo degli strumenti ad averne un uso anche ragionevole senza dipenderne troppo restandone padroni come ci ricordavi adesso Fabrizio tenendo presente che siamo chiamati a usare per il bene comune e anche magari ad essere creativi in questo perché magari ci sono davvero delle cose sulle quali anche nella nostra vita quotidiana possiamo migliorare la situazione nostra o di altri tenendo presente che ricordo una frase detta in merito alla televisione che diceva la televisione non è buona non è cattiva non è neutra vale tanto più per questo strumento che ci è messo tra le mani e l'utilizzo in una direzione o nell'altra è ancora una volta affidato a noi dove il compito educativo delle varie agenzie educative ma di ciascuno di noi è quello anche di formarci quella algoretica che ci fa capire quali sono i criteri che guidano le informazioni che riceviamo quali sono i criteri che guidano le modalità anche di svolgere il nostro lavoro i nostri compiti perché non ci siano criteri basati su profitto economia che strumentalizzino la persona anziché rispettarla e qua allora il compito dell'Accademia Pontificia credo che possa essere quanto mai importante in questo cambio d'epoca di cui il Papa continuamente ci parla e ci richiama a porre attenzione che riguarda questo cambio d'epoca tutte le istituzioni la Chiesa compresa cioè l'algoretica io lo esprimerei così dicendovi che l'algoretica disegna una società orizzontale dove il dialogo dove c'è dialogo ma c'è un dialogo orizzontale il dominio dell'algoritmo disegna una società verticale dove qualcuno impone e una grande quantità di persone obbedisce noi dobbiamo andare verso una società algoretica cioè una società che aumenta il dialogo aumenta la condivisione aumenta la conoscenza diffusa e questo cambia 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 le istituzioni cambia la società cambia ognuno di noi però magari lo cambia meglio che questo è l'obiettivo poi Fabrizio grazie di questo tuo tempo che ci hai dato e del lavoro che stai facendo noi ci siamo incontrati adesso virtualmente attraverso lo schermo televisivo proprio per restare in quella algoretica se passi dalle parti di chiave io vengo a Roma magari andiamo a bere un bicchiere al bar sperando di trovare un barista se sono a Roma sicuramente si trova simpatico almeno come quello del film che abbiamo visto prima grazie 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 a te al tuo staff a tutti quanti i nostri telespettatori grazie buon lavoro e invito tutti a leggere questo testo che il Papa ha inviato per la giornata mondiale della pace 2024 è particolarmente interessante ci farà riflettere e vedremo anche come questo può avere un'incidenza nelle cose di tutti i giorni in quel rapporto che abbiamo già tutti con l'intelligenza artificiale magari non lo sappiamo neanche perché non pensiamo che guardando il telefonino consultando la mappa sul navigatore che ci guida attraverso la macchina o semplicemente ricandoci in un ufficio postale o in banca in qualche modo entriamo in contatto con lei ci sia dato di riscoprire dei rapporti umani e di utilizzare questi strumenti nella giusta misura un caro saluto a tutti da Don Fausto a tutti Grazie a tutti.